Obedisci alla voce del mondo. Sei giusta. È la voce di Dio. Ora, ora tutto è perduto. Ma che cosa è perduto? Non chiedere, pensa a fuggire. Anche un'accusa insignificante potrebbe farmi precipitare. Mi ha vizzato contro le fiamme della discordia. Ma chi vuole con me? Il suo colpo mirava la mia testa, ma sarà la vostra. A cadere. Guarda la fiuma dell'angelo, padre. Sceglie il sangue. Sceglie Maria. Grazie a tutti.